Patrizia, grazie. È una signora che ho sentito un mesetto fa, prima di Natale mi sembra, una signora molto molto gentile che ha detto Danna ho comprato sempre da te, adesso è una signora che è in sede rotelle mi sembra e mi dice guarda voglio comprare ancora Patrizia non c'è alcun tipo di problema, quando vuoi puoi chiamarmi sempre, ti ricordo sempre con molto affetto e poi c'è la signora Marilena da San Demetrio Corone, Marilena ma come faccio a farti finire la lista del no Marilena? spiegami perché dovresti finire tu nella lista dei no, adesso con tutto il bene che ti voglio non trovo il motivo perché devo allungarti la collana, la collana te l'allungo assolutamente gratuitamente te l'allungo e basta, te la devo allungare e te l'allungo. Una signora che ha chiamato ha detto Danna non mettermi nella lista dei no perché ti ho detto di allungarmi la collana, ragazzi Marilena stai tranquillo stiamo nella lista dei no chi ci prende in giro, le amiche che hanno un problema perché può succedere piuttosto che anche quelle che non gli piace un oggetto, non è che deve piacere tutto per forza, non vogliamo quelle che ci prendono in giro continuamente, ripetutamente che acquistano e non aprono nemmeno il pacco, quelle persone li vanno immediatamente nella blacklist, non le nostre clienti che ci seguono e che comunque ci sostengono. la Ida di Brescia, la Natalia di Milano, c'era la signora Anna, la signora Natalia che dava anche un bacino alla bimba, grazie, la signora Nella, la signora di Gorizia, come si chiamano quella signora, la signora Carmela, non da Gorizia, da Rovigo, la signora Carmela di Rovigo, siete veramente in tantissime, la signora Rosanna di Roma, insomma siete veramente la signora Anna Rita da Messina, siete veramente in tantissime, amiche io non mi ricordo sempre tutti i giorni, però se voi chiamate, veramente un saluto, ve lo faccio veramente... Eccomi qui, ora cado anche dalla sedia, è così, faccio la mia in diretta. Allora, adesso attenzione, vi vorrei far vedere, due immediatamente la conferma. conferma, guardate che luminosità di Zirconi, guardate che qualità, Eternet quadrata, 59 euro, amiche regalata, taglio SP100, con la... Sì, ma questa qua è intera, quanto l'aveva fatto lo sconto? Ah, 129, perfetto. E non è gold però questa, è white, cercatissima, placata in oro 24 carati, con il suo bracciale, guardate il bracciale, è raffinata, vedete che ha i tacchetti di protezione, è una bella borsa, doppia tracol, manici importanti. Amiche, ditemi se si può, ditemi se si può, non confermare un fascione come questo, a 85 euro, amiche, gigantesco, lo vedete da voi, gigantesco fascione. Ad Eternet, taglio round, esagerata possibilità, tappabuchino maggio, 85 euro. E' bellissimo, è bellissimo, amiche, non mi deludete su questo fascione, vi prego. Confido in voi. Ebbè, a questa cifra, amiche, a questa cifra non si può non confermare. Tornami, grazie Giulie, sul girellino. Eccoli qua, voglio farvi vedere che orologi sono. Amiche, non esitate a confermare, 99 euro. Modello Rolex, quadrante in madreperla, cangiante, in base alla luce che riceve, cambia colore. Parliamo di numeri romani, datare alle ore 15, cinturino, giubilè, tre atmosfere resistente all'acqua, scatola, carta di garanzia. Modello Rolex, tutti e due, amiche, regalati a 99 euro. Non è possibile, amiche, non confermare. Amiche, oggi ho sentito un ascolto veramente strepitoso. Manca ancora un'ora e mezza, abbiamo ancora tante belle cose da vedere. Quindi, amiche, mi raccomando, siate veloci. C'è un'amica qui? La desidero. Ce l'ha un'amichetta, un maschietto che vuole fare un bel regalo? Solamente la grandezza dei millimetri di queste perle? 12-15 millimetri, scrivilo, grazie, Giulie. South Sea, mari del sud. Quando vi stufate, amiche, vi viene fuori. Collana, bracciale e orecchini. Allarga, Giulie. Sento diverse chiamate, vediamo se sono per questa. Io penso di sì. Sarà che mi fido troppo di voi, so che la prendete. So che mi farete contenta. Lo so, se lo so, lo so. Margarete da Bolzano, da Bolzano, perché sono mia vecchia cliente. È tornata anche la Margarete. Anche la Margarete è tornata. Una, 25,2, 35,3, 45,4 euro, tutte e cinque le pernè a 55 euro, amiche. Eccomi qui, amiche, parliamo di poncio, parliamo di un capo interamente realizzato in lana. È molto caldo, vedete, lo potete abbinare. Io ho messo la cintura per farvi vedere che potete anche metterlo sulla cintura. Ovviamente sotto mettete un bel giubbotto di pelle. O altrimenti lo portate il P1 aperto, veniva, pensate, 149 euro. È scontato a 79 euro, ve lo lascio per oggi. A, tolgo ancora 10 euro, non di più, amiche, perché sono gli ultimi due rimasti a 69 euro. Poncio, modello Valentino, aperto, potete portarlo anche chiuso sul centrale. Ne ho due disponibili. Non esitate a confermare perché è bellissimo. È caldo, in grigio e in nero è la colorazione di questo poncio. 69 euro, regalato, amiche, per voi. È bello, elegante, è raffinato, non ha problemi di dimensione, vedete, è bello e importante. Lo andate ad indossare su un bel giubbotto di pelle ed è caldissimo. Io, amiche, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento domani ore 14, ricordatevi che dal primo febbraio ci spostiamo su iBox 68, due canali avanti a questo. Mi raccomando, vi aspetto domani ore 14, tutte, vi voglio tutte come oggi, cariche sul pezzo, con tanti bellissimi gioielli e tante novità. Vi abbraccio a tutte, vi ringrazio sempre, come sempre, dell'affetto, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci vediamo all'isola dei famosi. Ma dai, basta! Un bacio a tutte, chiamate, amiche, chiamate e ditele, sai un po', prendete il poncio, mi raccomando, vi voglio bene, a domani ore 14, canale 65 e il primo febbraio canale 68. Buon sabato sera, amiche, vi voglio bene.